Una cassa dopo questa partita contro l'Alettonia, ti metri a zero, un compenso? L'Alettonia ci è stata molto superiore all'attacco, hanno giocato molto bene, l'hanno regalato nulla, ci abbiamo praticato a costruirci i nostri punti, pur difendendo bene, cercando di tenere viva la palla, l'atteggiamento era giusto, ma ci è mancato finalizzare le difese, quindi complimenti a loro, un bravo comunque anche ai miei ragazzi. Grazie.